E benedica, volete aprire le vostre Bibbie nella lettera agli Efesini a capitolo 1 dal verso 15 leggiamo perciò anch'io avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi. Non gesto mai di rendere grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, della gloria di Dio, lo spiro di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui. Illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria, della sua eredità tra i santi. Questa cosa voglio parlare dell'affinché di Dio. I credenti di Efeso erano dei fratelli che stavano crescendo nelle vie del Signore, quindi la loro fede, la conoscenza, l'amore che dice che voi avete per i santi la fede che avete nel nome di Gesù aveva trapassato i loro confini, si era fatta strata ed era arrivata persino nella città eterna Roma dove l'apostolo Paolo si trovava lì. Infatti è scritto O Udito. Paolo era in carcere, era una forma di semilibertale, resta domiciliare, c'era un soldato romano che H24 lo seguiva, si prendeva cura di lui non in quanto gli faceva i servizi che gli servivano ma essendo che era ancora stato che non potesse diciamo scappare. In poche parole lo sorvegliava. Quindi Paolo era in carcere ma la sua fede non era incatenata, non era incatenato l'amore che aveva per il Signore, non era incatenata la passione che lui aveva non soltanto per il Vangelo ma questo uomo che aveva un grande desiderio che il desiderio non era solo quello di fondare chiese, che il numero delle chiese potessero crescere ma che i credenti che erano all'interno delle chiese potessero proprio dire nelle vie di Dio. Infatti dice ho udito della vostra fede nel Signore Gesù Cristo e dal vostro amore verso tutti i santi non cesso mai di pregare. La motivazione di questa preghiera nasce proprio in quanto lui ha sentito come detto prima il progresso della sua fede. Vogliamo dire tutto assieme crescere? Crescere. Crescere nelle vie di Dio perché grazie a Dio come salute stiamo bene e stiamo anche messe bene come peso ma dobbiamo crescere nelle vie di Dio. Quindi lui dice ho piego le mie ginocchia, prega, dice ricordando di voi nelle mie preghiere. Paolo non solo pregava una volta ogni tanto ma nelle sue preghiere e questo un po' ci fa capire e comprendere a noi come cristiani la necessità che noi abbiamo come avere una vita di preghiera. Sviluppare la nostra vita di preghiera, imparare a piegare le nostre ginocchia che non è soltanto la questione della posizione se siamo in ginocchio ma la cosa importante è che la nostra vita è piegata davanti a Dio e che il nostro cuore sia inclinato. Quindi lui vedendo il progresso di questi fratelli che facciamo parte di questa richiesta di Efeso prega. Prega a motivo. C'è il motivo per cui prega è affinché voi possiate ricevere c'è uno spiro di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di lui. È stato predicato nelle prime veste del capitolo 1, voglio fare un piccolo riferimento. Se voi notate e lo leggete, io spero che voi lo state leggendo, la parola il lui in Cristo è ripetuta più volte. Il lui in Cristo. E noi siamo in lui in Cristo e la benzione non è soltanto aver conosciuto Cristo, aver fatto un'esperienza, ma la benzione della tua vita è di rimanere in Cristo. Nel frangelo di Giovanni dice se voi dimorate in me, io dimorerò in voi. C'è una condizione. Voi siete i miei discepoli se voi fate la mia volontà. Quindi a progredire nelle vie di Dio. La parola sapienza, la parola conoscenza, la parola conoscenza significa conoscere, sapere ciò che una persona è. Ora noi dobbiamo sapere chi è il nostro Dio. È il Dio che Paolo adorava, è il Dio che noi dovremmo conoscere. Il Dio di cui parla Paolo è il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, è il Dio della gloria, è il Dio dei cieli, è il Dio tremendo, è il Dio che è sovrano, è il Dio che è onnipresente, è il Dio che è onnisciente, è il Dio che è la prima e l'ultima parola, è il misericordioso, è il creatore dei cieli e della terra. È colui che ha cambiato, trasformato la tua vita. Perché il segreto della nostra vita è se la parola di Dio non soltanto trasforma, segna i nostri cuori, ma se noi rimaniamo in quella posizione in cui Dio ci ha messo. La benedizione non è nella Chiesa. Noi facciamo parte della Chiesa, facciamo parte della famiglia. La nostra benedizione non è soltanto se sulle nostre labbra c'è il nome di Gesù, perché il nome di Dio è anche sulle labbra degli adi, di coloro che lo bestiemono, di coloro così che parlano di Dio, ma essere cristiani fa parte di Dio e dimorare in Lui. Se noi non dimoriamo in Lui, le benedizioni che Dio ha preparato in Cristo Gesù non saranno per noi, non li riceveremo, non ne godremo di questa grande benedizione, perché lo scorre della presenza di Dio e della sua benedizione è su coloro che lo cercano con tutto il cuore e che si identificano nel figliolo di Dio. La conoscenza della sua grazia e della sua misericordia, affinché voi lo possiate conoscere. Non è soltanto che noi dobbiamo avere sapienza, dobbiamo solo avere conoscenza, perché molti hanno conoscenza di Dio, ma non sperimentano Dio, hanno una cultura su Dio, sanno su Dio, conoscono quello che dice la scrittura. Non molto tempo fa c'era un giornalista che diceva io sono innamorato di Gesù, pensavo che fosse un fratello e poi ha detto io sono innamorato di Gesù storico, ma non di Gesù, come l'agnello di Dio che è sceso al cielo, che ha dato la sua vita per l'umanità e affinché chiunque che è di lui non perisca, esca dalla condizione dei propri peccati e inizia a sperimentare la vita. Quindi la conoscenza che noi dobbiamo avere di Gesù non è una conoscenza intellettuale, ma deve essere una conoscenza sperimentale. Dobbiamo sperimentare il figlio di Dio nella quotidianità, dobbiamo sperimentare Dio attraverso la scrittura, la parola. Questo è un libro che dovrebbe essere il nostro libro. Noi dovremmo essere innamorati da questo libro, noi dovremmo essere innamorati dalla parola, perché qui dentro c'è la volontà di Dio, quello che Lui ha fatto per noi, come noi possiamo vivere una vita santa, una vita giusta, come noi possiamo essere integri. Il successo dei credenti della chiesa di Efeso non è perché loro fossero diversi degli altri cristiani, delle altre chiese. Erano persone come te e come me, ma perché avevano superato le differenze, avendo superato le differenze, avevano iniziato a volersi bene, ad amarsi. E' quello che dice Gesù, amatevi non l'altro come io vi ho amato. Quindi è l'amore di Dio che è in noi, è l'amore di Dio che deve farsi strada. Gli altri devono udire, non del lamento, no, perché non siamo mai contenti, ma gli altri dovrebbero udire della gioia che c'è nel nostro cuore, dalla felicità che Cristo ha portato in noi, in quanto noi siamo grati a Lui per quello che Lui ha fatto per ognuno di noi. Amen? Ha fatto tanto per noi, non soltanto due mila anni fa, ma lo fa ancora oggi. Ecco perché la scrittura dice che in Lui abbiamo tutto quello di cui noi abbiamo bisogno, ogni ricchezza. Quindi la benzione tua non sta solo sul fatto di quanto è sul conto in banca. Se hai un buon conto in banca Dio sia benedetto. Non è sulle ricchezze che noi possediamo, ma è la ricchezza che è in noi, che ha portato dentro di noi, è la ricchezza che non ti potranno mai togliere, è la ricchezza anche se ti fermano per strada e ti dicono questa è una rapina. Sì, ti possono spogliare, ti possono buttare via il portafoglio, qualche centinaio di euro, ma non potranno mai toglierti la ricchezza dall'appartenenza di Cristo che è nel tuo cuore. Nemmeno se ti sguaccio, nemmeno se ti tiro fuori il tuo cuore fuori. Quindi l'impero romano non poteva togliere quello che Paolo viveva, quello che era la passione. Il soldato non poteva capire quando lui si inginocchiava, quando adorava, adorava, adorava Dio. La conoscenza di Dio non è una conoscenza filosofica, non è una conoscenza, perché molti hanno il loro Dio e il loro Signore. Quindi è importante che noi leggiamo la Bibbia, studiamo la Bibbia, e lasciamo che la Bibbia ci parli, che la Bibbia ci spogli, perché avendo conoscenza di Dio, assaporando della sua grazia, il tuo vecchio uomo morirà. Se tu non ci darai da mangiare, morirà. Se noi non ci diamo possibilità di vivere, lui morirà. E noi progrediremo nelle vie di Dio, che il desiderio di Dio, e spero che sia anche il desiderio tuo, perché credo che dovrebbe essere il desiderio di ogni cristiano scendere nelle profondità della grazia. Non rimanere solo, cioè con la testa fuori in superficie, ma scendere nelle profondità di Dio. Per scendere nella profondità di Dio dobbiamo imparare a morire ogni giorno. Per scendere nella profondità di Dio ogni tanto di io non sono nessuno, e se sono qualcosa sono per la grazia di Dio. Perché avere un'attitudine di umiltà è glorificare Dio. Avere un'attitudine di umiltà è permettere a Dio, che ancora può lavorare nella tua vita. Se tu permetti a Dio, ti potete sfogliare ancora di quelle cose che resistono, che ti rovinano, che rovinano la tua vita, che rovriranno la tua famiglia, che rovriranno i tuoi figli. E i tuoi figli quando vedranno che tu sei sempre lo stesso, alla fine perderanno anche la dignità. Conoscere Dio per servirlo meglio, per essere benedetti, della sua benedizione, della sua ricchezza. Dio è la cosa più importante. Tutta la parola non ce la faranno gli uomini. ora stanno cercando di creare un Tacx, fa la Terra e la Luna, e sulla Luna fare una base per poter andare su un marco. Potrebbe darsi che noi o i nostri figli potrebbe darsi che lo vedranno. La scienza è scienza, la scienza va avanti. Quindi non dobbiamo avere paura della scienza. Potrebbe darsi che sarà così. Non lo so. Mi può interessare. Sì, forse. Non so. Ma la Bibbia dice che fra non molto tempo non ci sarà un astronauta che scenderà con la duda. Perché mi ha detto che sulla Luna a volte la temperatura scende 200 sotto lo zero. Puoi immaginare. E poi c'è l'esposizione che è al sol. Non mi interessa a me tanto. Non è questo quello che mi appassiona. Che non mi fa dormire la notte. Ma una cosa è certa. Non so quanto. Forse non troppo tardi. Verrà uno che scenderà dal cielo. Non con la navetta. Ma cavalcando un cavallo bianco. E dice che gli angeli, l'esercito celestiale, verrà con lui. Questo è ciò che a noi ci interessa. Questo è il Dio che noi stiamo servendo. E di cui noi dobbiamo essere orgogliosi della sua grazia e della sua misericordia. Dice la finché di Paolo. Finché possiamo conoscere, approfondire. Dice in Matteo che l'avventudezza tua è edificare la tua casa su quella roccia. E se noi edificiamo la nostra vita spirituale su quella roccia e progredire spiritualmente. Paolo voleva che il progresso fosse spiritualmente, nello spirito. Che noi ci appropriassimo di Dio delle sue ricchezze. Noi non abbiamo cambiato religione. Chiaramente stavamo dove noi eravamo. Era magari comodo. Ma è avvenuto qualcosa di importante. Che siamo nati di nuovo. Che lo Spirito Santo è venuto dentro di noi. C'è stata una rigenerazione. Questo ha portato a gioia. Non sapevamo a chi dovevamo dire che qualcosa era successo nella nostra vita. E molte volte la domanda è, si può mantenere, mantenere, sicuramente questo non è il Signore che ne vuole parlare, no? Che ne parla in profezia. Quindi, e porre dire, nelle vie di Dio. Quindi vuole che noi cresciamo nelle sue vie, noi scendiamo nelle sue profondità. Quindi è costruire su quella roccia. Noi abbiamo una proprietà, oggi c'è il mio fratello, dove c'è una casetta, una baracca. Noi non è una casetta, non mangiamo una casetta di campagna. È una baracca dove tu tenevi due conigli o qualche cosa. Il mio padre, essendo che era un muratore, ha avuto l'ingegno di costruirla su una roccia. Ogni intanto, forse di 10 anni, 15 anni, questo fiume si grandisce, cioè quando entra nelle proprietà, ma non riesce a distruggere questa casetta che mio padre ha fatto, perché l'ha costruita sulla roccia. Quindi la fiume scende, urta contro questa roccia, cambia direzione. La casa fondata sulla roccia, tu sarai provato, passerai le prove, passerai delle sofferenze. Ci saranno le intemperie, ci saranno quando sarai sul mare, ci saranno quando la tua bacca traballa. Il segreto è essere su quella roccia, che è la roccia che è Cristo, il figlio di Dio, che è venuto per farci conoscere il padre, per darci rivelazione del padre. Il motivo per cui lui è venuto, la sua missione non era soltanto di morire per noi sulla croce, ma la missione è facile conoscere il padre, colui che sarebbe stato difficile per l'uomo, per la sua intelligenza, per la filosofia dell'uomo, era impossibile. infatti nella lettera ai Corinzi, primo Corinzi, è scritto. Cioè, ma le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito, e che non sono stati in cor d'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. E' strutturale recente. Quello che l'uomo naturale non può capire, non può comprendere. Dio, però, le ha rivelati a noi, per mezzo del suo spirito. Perché è lo spirito che investe in ogni cosa, anche le profondità di Dio. E' lo spirito che ti ha rigenerato, è lo spirito che ha cambiato la tua vita, è lo spirito che ci guida, è Dio, spirito santo che è dentro di noi. Dio, spirito santo, è lo spirito santo che c'è in te, in me. Quando noi cerchiamo una parola, un qualcosa, non possiamo, non dobbiamo guardare attorno a noi. Ma dovremmo chiedere a colui che è dentro di noi. Chi tra gli uomini, infatti, conosce le cose dell'uomo? Se non lo spirito dell'uomo che è in lui. E se tu ti fermi e tu rifletti tu te stesso, sai quanto fesseria hai fatto nella tua vita, forse, no? Quindi sai qual è la nostra vita. Chi più di Nicola Spuria conosce Nicola Spuria? Ecco, lo spirito dell'uomo conosce l'uomo. Così pure nessuno conosce le cose di Dio. Nessuno conosce le cose di Dio, se non lo spirito di Dio. Quindi non soltanto noi abbiamo bisogno di conoscenza e di sapienza, ma abbiamo bisogno di che cosa? La rivalazione dello spirito santo. Lui ci rivela le profondità di Dio. Ma finché le profondità di Dio, affinché tu abbia la rivalazione di Dio, ti deve prendere il tempo, ti deve fermare. Deve chiuderti una stanza, deve staccare il cellulare, deve leggere la scrittura, deve leggere la parola. E prima che inizia a leggere, di spirito santo guidami in questa lettura. E lui inizia a parlare nella sagretezza del nostro cuore. Cambia il costo della nostra vita. Cambia il nostro carattere. Cambia il nostro modo di pensare. Perché siamo in Cristo. Siamo in Lui. Siamo nel Figlio di Dio. Un cambiamento, spero. Una trasformazione è iniziale. Il tuo modo di parlare, il tuo modo di pensare, il tuo modo di ragionare, di vivere nella pace, di amare i tuoi nemici, non è qualcosa che a noi dovrebbe costare. Perché è costato a Lui. E togli di quel modo di parlare. No? Che molte volte diciamo, se non fosse per Dio, e perché dovrebbe essere? Ma scusami. se non fosse per il Signore. E perché? Dio insiste. Per chi dovrebbe essere? Quindi, colui che pure nessuno conosce, che è Lui. Così pure nessuno conosce le cose di Dio, se non lo Spirito di Dio. Or noi, diciamo, noi. Non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo. Eravamo nel mondo. Eravamo nel peccato. Eravamo eranti, come pecore. Non avevamo la salvezza. Ma nel passato. Quindi, dice l'Apostolo, ma lo Spirito che viene da Dio, affinché, l'affinché di Dio. L'affinché di Paolo. Era che i fratelli di Efeso, che stavano crescendo bene, potessero ancora di più nelle vie di Dio. Potessero ancora approfondire la loro conoscenza. Dio era contento. Ma era contento anche Paolo. Anche se era una chiesa che aveva spesso del tempo, non era più presente, quando sente parlare di loro, era ben felice. E forse avrà detto, il tempo, il sacrificio che io ho spesso con loro, sicuramente, cioè, ne basta la pena. Anche Dio dice la stessa cosa, vorrebbe dire la stessa cosa. Il tempo che spende con noi, il tempo che spende con la sua chiesa, vuole vedere i frutti, che gioia, amore, gentilezza, autocontrollo, perdono dei nostri nemici, amore, nota, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate donate da Dio. Se tu ricevi un dono, spacchetti, e vuoi sapere quello che c'è dentro, e quando vede che qualcuno ha fatto un bel regalo, sei contento, felice. Bambini corrono per tutta la casa, no? il più grande dono che noi abbiamo ricevuto è Cristo, è il figlio di Dio, è Gesù Cristo che ci è stato dato. Infatti, dice, voi state state favoriti in Cristo. Noi siamo eredi, siamo coeredi. Abbiamo un'eredità che nessuno ti potrà rubare, che è per te e per me. dice che è custodita nessun nei cieli. Io non faccio, ma perché le persone si ammazzano per poche cose che il genitore gli lascia, non sono mai contenti? Ma questo non è che succede fuori dalla Chiesa, anche nella Chiesa, se c'è una vera ricchezza che noi abbiamo in Cristo Gesù, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Ecco lo Spirito Santo che ci è stato dato, che ha rigenerato la nostra vita, cambiato, ci fa respirare la sua presenza, ma non è terminato, non è finito. Vuole farci conoscere le cose profondi di Dio. Vuole farci scendere nelle profondità. Vuole guidarci in questo. Alleluia. la felicità è piena da questo, la conoscenza del Figlio di Dio, di quello che Lui ha fatto per te. La benzione della tua vita non dipende nemmeno da me, la benzione della tua vita non dipende nemmeno del pastore dotturno, la benzione tua non dipende nemmeno di quello che è su internet, la benzione tua, mia, nostra, della Chiesa dipende da Dio, dal Figlio di Dio, dal Padre Eterno, da conoscere la scrittura, la Bibbia, di immergirci in questa parola, che la nostra evidente vita sia determinata da questa revelazione meravigliosa. L'amore di Dio, la sua paternità, desidera che noi cresciamo in Lui. Quindi la cosa importante dice Paolo, avendo saputo sulla loro fede, l'amore che avevano l'uno per l'altro, si servivano, si amavano, non guardavano basso, guardavano alto. Quindi Paolo ci ho prego, mi ricordo di voi nelle mie preghiere, sono contento affinché voi abbiate conoscenza, abbiate sapienza, abbiate intelligenza, perché l'intelligenza spirituale significa avere discernimento come risolvere i problemi nella quotidianità, come risolvere ogni cosa, questa intelligenza spirituale che Lui ci ha dato. Noi non dovremmo mai avere le mani tra i capelli, noi non dovremmo essere mai disperati, noi non dovremmo essere mai tristi, non sto dicendo che noi non passiamo un momento difficile, un momento particolare, che non c'è un momento quando siamo giù, quando abbiamo, non sto dicendo questo, non è il messaggio, non è questo, ma illumini gli occhi del vostro cuore. Nella mia versione Diodati dice della mente, in un'altra versione la versione dice dei vostri cuori, quindi vi dia sapienza, vi dia conoscenza, vi dia rivelazioni, illumini gli occhi dei vostri cuori. Quando la mattina io mi alzo con Cristiana sparanchiamo le persiane, vogliamo che la luce entri, forse qualcuno lì chiude, ci piace stare al buio, questo è depressivo, non fare queste cose, sparanchiamo le finestre, è un periodo che è come se fossimo in primavera, giusto, stiamo venendo di giornata meravigliosa, sparanchiamo, apre, lascia che la luce entri a casa tua, sparanchiamo il nostro cuore, affinché la sua luce illumini la nostra vita, il nostro cuore, la nostra esistenza, alleluia, amene, dice, allargate il vostro cuore al figlio di Dio, allargatelo alla grazia di Dio. Concludo, Paolo, cosa dice, la vostra posizione in Cristo, in Lui, in Lui, in Lui, nel figlio di Dio, che è il figlio alla vita eterna, che non ha il figlio, non ha niente, nel figlio, oggi è una giornata importante per i catanesi, triste per noi, ma perché siamo qua, perché una città che va dietro un pezzo di gesso e c'è chi cerca aiuto, c'è chi cerca la grazia e la trasportano, non lo dico questo, perché noi eravamo anche noi idolatri, questo è il mondo che è attorno a noi e abbiamo una responsabilità che loro come Paolo sentì, udì, che anche gli altri possono dire quello che Dio ha fatto nella tua vita, fare un post su Facebook e condannare questo non serve a niente e se tu lo condividi non hai capito niente, perché ti sei dimenticato, tutto che Dio ti ha preso, no? che anche tu, anche io, eravamo come loro e se oggi non siamo più come loro è per la grazia di Dio che Dio ha fatto un miracolo, quindi Dio ha dato in Cristo sapienza, conoscenza, intelligenza per poter noi vivere secondo il proposito di Dio. concludo con le parole che Paolo dice in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo, che noi abbiamo fatto un motto ma non è questo, in queste parole c'era tutto la vita, l'esistenza, il servizio di quello che era l'Apostolo Paolo che è stato incontrato dall'amore di Dio, la sua posizione era in Cristo, e non aveva alcuna intenzione di scostarsi da quella posizione c'è vivo, vivo nel figlio di Dio, vivo della sua grazia, sostenuto dal suo amore e servo il figlio di Dio. Vogliamo alzacci in piedi e sbranchiamo le porte del nostro cuore e adoriamo il figlio di Dio, adoriamo Dio Padre, adoriamo la sua grazia, benediciamo la sua parola, benediciamo quello che Lui ha fatto per noi, c'è motivo di essere grato a Lui, c'è motivo di ringraziarlo, c'è motivo di far sentire le nostre voci, c'è motivo di dire Signore, grazie, grazie per quello che Tu hai fatto per me, grazie per gli strumenti che Tu mi hai dato, grazie per il tuo santo spirito, che non mi serve solo per parlare in lingua, ma il tuo santo spirito è Dio spirito santo che mi è stato dato e Lui schiude ciò che sono i misteri, mi rivela della tua grazia, della tua benedizione, io lo amo, lo serve, ne sono sottomesso perché io voglio scendere nelle profondità, non voglio accontentare di dove sono arrivato, perché c'è di più, di più, di più della sua presenza, non è una questione di cultura, è una questione spirituale, è una cosa sperimentale, per sperimentare Dio, dobbiamo stare con Lui, dobbiamo ritagliarci il tempo, dobbiamo dargli l'importanza, dobbiamo lasciare soldi a contare, perché è un appuntamento con Lui, Dio, l'assoluto, il sovrano, il Signore dei Signori, l'onnisciente, l'onipresente, dobbiamo goderci qui sulla terra, già assaporare quello che sarà l'eternità, perché è impensabile, se tu non ti godi Dio qui sulla terra, tu te lo potrai godere un giorno per l'eternità, non insegna questo la scrittura, ecco cosa significa essere in Cristo, perché dice se uno non è in Cristo e fa un esempio dei tracci, della vita, saranno tagliate, saranno buttate nel fuoco, la tua vita come la mia vita ha valore, ma Dio ha dato valore, per questo noi onoriamo Dio, serviamo Dio, lo amiamo, ci comportiamo bene, viviamo secondo la Sua parola, lasciamo che la nostra vita sia un foglio bianco alla Sua presenza e Lui possa scrivere abbiamo bisogno di fermarci, abbiamo bisogno di riflettere, abbiamo bisogno di capire, abbiamo bisogno di fuggire, se abbiamo una religione evangelica che non ti salva, che non è diversa di quella che hanno i cadanesi o che hanno in questa nazione, è la sua presenza, è la sua benizione, è la sua essenza, l'essenza, Cristo è l'essenza del Padre che è venuto per farci conoscere il suo amore eterno, lasciamo che la sua parola oltrepassi i nostri cuori, oltrepassi la nostra anima e rilasce, forse hai bisogno che il tuo cuore sia sanato, che il tuo cuore sia consolato, che il tuo cuore, la tua anima sia visitata e quando noi impariamo a umiliarci e quando noi impariamo a sentirci chissà che, pur essendo figli di Dio, pur facendo parte della sua famiglia, ma assumiamo atteggiamenti umili, reverenti del nostro Dio, vieni Signore questa sera, vieni perché abbiamo bisogno di te, non è l'organizzazione, no Signore, assolutamente, è il tuo spirito, è la tua misericordia che abbiamo bisogno nelle nostre famiglie, nelle relazioni con nostre figlie, per conoscere Lui, 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 e corriamo, corriamo, verso il figlio di Dio corriamo verso il padre eterno corriamo verso la sua rivelazione, la sua parola che questo libro non rimanga chiuso ma che questo libro sia aperto che questo libro non rimanga su di scaffare che su questo libro non si posi da volvere io piego le mie ginocche dice Paolo era vecchio, anziano era lì, nonostante ciò aveva un cuore aveva una preoccupazione per la chiesa affinché la chiesa potesse conoscere di più Dio ho conosciuto uomini letterari ho conosciuto uno che era una fabbela ma quando ha donato il suo cuore a Dio lo Spirito Santo gli ha insegnato a leggere a scrivere e aveva una sapienza che tutti al mio paese riconoscevano la sapienza la saggezza che c'era sopra la vita di questo uomo è una cosa che ricordo che era in campagna ma a mezzogiorno lui doveva tornare dalla campagna perché aveva un appuntamento con Dio mezzogiorno c'era luce ma lui aveva una sua abitudine che quando si metteva a leggere voleva che la lampadina di casa sua fosse accesa sappiamo che questa era magari una cosa formale ma quello che Dio vuole mettere questa sera sotto i nostri occhi l'onore l'importanza che questo uomo dava a Dio tutti siamo coscienti che necessitiamo di un risveglio nella chiesa ma il risveglio non arriva nella chiesa se la chiesa non lo vuole se la chiesa non lo desidera se la chiesa non si mette a pregare se la chiesa non si prosta se la chiesa non si umilia se la chiesa non faccia qualche cosa se la chiesa non piega le sue ginocchia se la chiesa non restaura l'altare sul quale ogni uomo ogni donna singolarmente offre i suoi doni le sue preghie le sue ringraziamenti le sue 판 ne si si se si se si si La maggiore che la ma, la maia, la maia La maia, la maia La maia, la maia La maia, la maia Gli occhi del nostro cuore devono essere aperti I nostri cuori devono essere aperti I nostri cuori devono essere donati I nostri cuori devono essere nelle sue mani Lui, Maite, è scegliere carattita Quando la tua vita sarà una pasta nelle sue mani E lui potrà fare quello che vuole E quando lui può impastarla Allora sì, allora sì Allora sì Que la Chiesa uscirà dalla sua crisi Nessun Stato poi si trova E la maia, la maia, la maia E la maia, la maia, la maia E la maia, la maia, la maia Una sinfonia dove puoi uscire Ma abbiamo difficoltà, sì, perché ci siamo accontentati dalle prigiole, ci siamo accontentati dalle piccole cose, abbiamo trascurato la nostra esistenza, la nostra vita, abbiamo trascurato il nostro rapporto con Dio, abbiamo trascurato il nostro rapporto con la parola e i risultati sono quelli che sono. Ma il suo amore, la sua grazia, la sua paternità, Dio non è come Paolo, non ha bisogno di piegare le sue ginocchia, non ha bisogno di piegarsi, Lui parla, Lui fa ascoltare, è noi che dobbiamo udire. Il suo fissuro Il suo amore è un amore, non posso ricambiare quanto hai fatto per me, la mia adorazione dò. Il suo amore, non posso ricambiare quanto hai fatto per te, tu non puoi morire per Gesù sulla croce, perché Gesù non aveva alcun peccato che gli doveva essere perdonato. Ma noi possiamo vivere per la croce, noi possiamo vivere per il Vangelo, noi possiamo vivere per essere testimoni della sua gloria, del suo amore. Noi possiamo soffrire come lui ha sofferto per noi, noi possiamo cambiare nella gratitudine della nostra vita affinché noi veramente viviamo in Lui, ci muoviamo in Lui. In Lui noi siamo, in quanto Lui ci ha dato tutto quello di cui noi abbiamo bisogno. E una vita a metà, un cristianesimo a metà, non risponde a quello che è la visione del Vangelo, anche la visione di Dio. Noi ci siamo, stiamo diventati un po' montani, noi ci siamo un po' scostati dalla purezza, dalla limpidezza e per questo abbiamo bisogno di ritornare alla fonte della vita. Abbiamo bisogno di ritornare a Lui, abbiamo bisogno che i nostri cuori si riscaldano quando noi pensiamo a Lui, quello che Lui ha fatto per noi. Alleluia! Riempimi dell'unzione, pieni spirito di Dio, riempimi dell'unzione, sana il mio cuore. Riempimi dell'unzione, santo agnello, Dio del cielo, ti voglio adorare. Riempimi dell'unzione, santo agnello, Dio del cielo, ti voglio adorare. Riempimi dell'unzione, santo agnello, Dio del cielo, ti voglio adorare. Riempimi dell'unzione, santo agnello, Dio del cielo, ti voglio adorare. Riempimi dell'unzione, santo agnello, Dio del cielo, ti voglio adorare. Riempimi dell'unzione, santo agnello, Dio del cielo, ti voglio adorare.